Dopo la manifestazione che ha riscosso grandissima partecipazione a Lanciano, il tema della petrolizzazione torna sui tavoli degli ambientalisti che questa volta mettono in luce le analisi prodotte da un pool di scienziati e ricercatori in merito alle conseguenze delle trivellazioni petrolifere in Abruzzo. Ma adesso è arrivato il tempo in cui la regione Abruzzo si prenda carico di tutti i nostri studi, siamo qui in tanti, siamo geologi, fisici, chimici, biologi eccetera, si prenda coscienza di tutto questo lavoro che è stato fatto e presenti le nostre istanze nei prossimi appuntamenti con gli uffici ministeriali e romani. Conseguenze inerenti all'aspetto geologico, i valori di inquinamento atmosferico, quello delle acque, il dossier verrà consegnato ai vertici della regione Abruzzo per perorare la causa non brina. Esistono due tipi di pericolosità geologica, cioè il fatto che il pozzo perfora dei sedimenti poco consolidati, pieni di gas, quindi l'estrazione dei fluidi crea un abbassamento del suolo per un largo raggio intorno a questi impianti e questo abbassamento del suolo produrrà praticamente una buca in cui verranno risucchiati i sedimenti costieri. Il rilascio di inquinanti in atmosfera sarà devastante per la costa, di fatto queste attività producono degli idrocarburi che rilasciati in atmosfera vanno a sconquassare la qualità dell'aria sulla costa. In condizioni per esempio meteoclassiche ed estive, quindi dove predominano i venti di brezza, gli inquinanti arriverebbero tranquillamente sulla terraferma e quindi con un pericolo di inacidimento dei suoli, oltre che naturalmente per la salute umana di noi che respiriamo sostanze inquinanti.